Pagina e passiamo a quello che sarà il tema del podcast di oggi. Roberto Brambilla, Gianmarco Galliaggi, Giorgio Osatto, Giorgio Dusi e parliamo di quelli che saranno, secondo noi, i giocatori da tenere maggiormente d'occhio in Bundesliga in questo 2022. Diciamo i talenti in crescita. Ognuno se ne sceglie due, ce li siamo un po' divisi, questi chiaramente non possiamo dirle tutti perché se no non guardate più niente perché vi diciamo tutto noi, punto uno. Poi punto uno sono talmente esanti che oggettivamente sarebbe un minimo di selezione. Diciamo anche la verità, dovevamo farne un mese fa questa puntata. Purtroppo alcuni ce li siamo bruciati perché avremmo avuto delle chicche veramente clamorose però per sicuro che sono gli stessi, non abbiamo cambiato assolutamente la lista. Diciamo che comunque ci stiamo abbastanza prendendo. Allora io direi di cominciare da Rob che ci parla di un difensore del Bochum che nel mercato di gennaio è stato anche accostato al mercato italiano perché sembrava che dovesse andare all'Udinese. Invece è rimasto. Rob, chi è? Allora, Armel Belacoschap si dovrebbe leggere la francese perché lui è parigino nonostante abbia praticamente vissuto fin da ragazzo a Hallen che è in Germania perché il papà Cyril è stato un giocatore appunto tra gli altri ed è a Rod Weiss Hallen che è una squadra che adesso langue credo sia in Oberliga comunque nelle serie inferiori. E del 2001 è, allora, cosa colpisce? Il fisico, la velocità per la sua struttura perché supera l'uno, è credo sia 1,90 però ha grande corsa, grande velocità e secondo me la cosa, a parte che è un eccezionale giocatore di contrasto, nel senso è ovviamente uno che fate un contrasto con lui e al diare del fisico, vi spiego, non è propriamente facile e poi una cosa che a me ha colpito che tecnicamente è, io preparando questa puntata rivedendo alcune cose che mi ero segnato, tecnicamente molto buono e soprattutto per avere 21 anni non ha nessuna paura di impostare se vi guardate le azioni spesso del Bocum lo vedete davvero a fare il regista difensivo ed è una cosa soprattutto per un ragazzo di 20 anni, nessuna paura è molto accurato nei passaggi, nel senso che leggendo i vari dati ha più dell'80% l'uscita dei passaggi che per un difensore, vabbè che spesso non sono passaggi molto difficili ma perdere palle in difesa quando si deve giocarne tante diciamo che è un vantaggio secondo me, allora, è un giocatore davvero di prospettiva dove deve crescere? Secondo me deve crescere nelle letture a volte leggi alcune giocate come non si dovrebbero leggere diciamo che al suo vantaggio non è uno che ha dei blackout che per avere 20 anni e fare il centrale sappiamo che se un centrale sbaglia 90% è gol se non hai, no, ieri porta ho un buon portiere secondo me, allora se il Bocum continua la stagione che noi abbiamo definito una stagione, non dico rivelazione ma comunque una buona stagione e continua in queste diciamo con queste prestazioni con questa solidità anche mentale secondo me può essere un giocatore che abbiamo visto che come dicevi giù prima è stato accostato all'Udinese ma il Bocum ha declinato l'offerta perché ha detto che non aveva nessuna intenzione di cederlo anche perché credo che se dovesse andare bene secondo me l'offerta che gli ha fatto l'Udinese secondo me a fine anno potrebbero arrivarne di più alte e secondo me, sapendo che il Bocum non naviga mai nell'oro diciamo che secondo me qualche squadra di medio livello o di medio livello della Bundesliga e non solo potrebbe farci un pensierino a me davvero hanno colpito queste due cose davvero la fisicità che per un centrale non è mai diciamo che è un vantaggio rispetto soprattutto alla statura è un giocatore estremamente estremamente è un giocatore veloce e poi a me ha colpito anche la personalità è un ragazzo che quando bisogna giocare la palla non è uno che si nasconde e diciamo che soprattutto visto che adesso ci sono sempre giocatori che giocano con la palla con la palla fin da dietro per la costruzione secondo me lui può essere un bel giocatore tra l'altro prima ho citato il papà che peraltro non faceva il suo ruolo perché era vado a mia memoria perché quando poi ho ricercato faceva l'attaccante tra l'altro bella cosa io mi ricordo una cosa sua l'esordio che fu in Coppa di Germania in un Bocum Bayern Monaco che era il ritorno di Goretzka peraltro per la prima volta nella società natale che fece una partitaccia fece una serie di errori clamorosi però da lì di fatto è cominciata la sua carriera al Bocum ed effettivamente tra l'altro adesso è in coppia con Leitch con Maxi Leitch che è anche lui un ottimo un ottimo difensore tra l'altro dove lo vedresti bene? dove lo vedresti bene? allora io lo vedrei in una squadra nel senso beh io per esempio non so lo vedrei in squadre per esempio lo vedrei bene al Gladbach se vogliamo fare qualcosa di se dobbiamo ricostruire anche però credo che non sia economico perché il Bocum purtroppo vive di questo anche perché come volevo dire prima che il Bocum ha una tradizione Goretzka è l'ultimo ma ha sempre una grande tradizione di produzione di talento ricordiamo che Bocum si trova tra Gelsenkirchen e Dortmund non propriamente il posto cioè in cui si spicca per crescita del talento visto che ci sono due dei settori giovanili più importanti di Germania e soprattutto mi dispiace per il Schalke ma dovremmo parlare non dico al passato ma non al passatore moto ma almeno al passato prossimo perché ultimamente ne stanno uscendo molti di meno però effettivamente se uscivano come quelli di prima diciamo che forse non stavano in Zweite esatto non stavano in Zweite hai visto quello che usciva secondo me è una squadra di secondo me è anche all'Eintracht ma non è proprio per secondo me lui non è pronto mentalmente per fare anche tecnicamente per fare un grosso salto però secondo me è una squadra di quel livello in cui trovi degli allenatori che gli insegnano e secondo me appunto uno come Glasser ma anche tanti altri allenatori di Bundesliga potrebbero dargli potergli fargli fare questo però anche se secondo me ha molto appeal anche all'estero perché appunto quella dell'Udinese noi sappiamo che l'Udinese fa sempre queste pesche che fondamentalmente quando noi le guardiamo diciamo vabbè ma perché l'ha preso poi vediamo perché l'ha guardato perché l'ha visto e secondo me lui davvero ha delle qualità ottime secondo me soprattutto in un ambiente in cui ragazzi diciamo che il Bocum è una squadra in cui bisogna difendere difendere tanto e lui diciamo sempre che è un giocatore che come è un giocatore anche per completezza può dar bene ad ammigliorare nelle letture però è ovvio a 20 anni l'esperienza soprattutto in un ruolo come il centrale fa tantissimo e soprattutto è un paradosso ma sembra lui che guidi la difesa ed è sostanzialmente non dico un bambino ma ce ne ha 21 però devo dire che a me ha colpito a me ha colpito molto lui e queste qualità rimaniamo in difesa Gian passiamo dal Bocum a un pochino più sopra in classifica parlando di un ragazzo che quando è arrivato quest'estate chi lo conosceva per la sua reputazione in Sud America comunque sapeva cosa stava arrivando alle Vercuse forse non si aspettava che diventasse subito così comunque decisivo inamovibile potrei dire in un ruolo in cui avevano preso un altro per giocare al posto suo sostanzialmente Piero in capie del Bayer Leverkusen eh sì perché di fatto è stato probabilmente uno dei grandi colpi dell'Everkusen in quest'estate insieme all'allenatore come dicevamo prima è reduce da una Coppa America che ha giocato a livelli incredibili dato che non ha mai mai giocato con la maglia dell'Equador ha esordito ha fatto 5 partite in Coppa America tutte e 5 titolari tra l'altro è stato anche il siparietto molto divertente con Messi non so se ricordate proprio nella nella gara dei quarti finali che persero e è un difensore di ottimo ottimo livello tra l'altro all'Everkusen sta giocando molto sia da centrale che largo a sinistra che tra l'altro secondo me potrebbe anche essere la sua versione finale qualora dovesse tornare eh presto si spera Tapsoba anche se insomma il problema è abbastanza serio e è un giocatore di ottimo livello perché nonostante il metro e 84 all'altezza ha un'ottima forza fisica e un ottimo colpo di testa è abbastanza veloce e ha delle caratteristiche difensive che secondo me lo fanno spiccare in un campionato come la Bundes perché se magari il dato sui contrasti non è particolarmente alto Brille invece per quelle che sono quelle che in inglese chiamiamo clear and clear insist le cosiddette palle allontanate se vogliamo liberare l'area se vorremmo tradurre l'italiano e negli anticipi perché comunque sommando le arriva quasi quattro tra clearances e anticipi a partita che è andato molto molto alto per un giocatore che di fatto gira una media di neanche 70 minuti e partita sta giocando a un livello altissimo e ha già segnato tra l'altro due gol uno in Europa League e uno in Bundes è arrivato comunque per una cifra considerevole in Europa perché comunque l'Everkusen ha messo mano al portafoglio e ha versato 7 milioni al Tiger S che lo ha preso dall'indipendiente del Valle però fino adesso ha dimostrato di essere un ottimo giocatore anche in fase di impostazione lui è un mancino naturale ma fino adesso insomma anche da terzino sinistro ha reso molto molto bene infatti basta pensare che su le 15 apparizioni il fatto che adesso è in Bundes sta comunque girando una media di 0.3 passaggi chiave per partita che per uno che gioca principalmente in difesa è un valore piuttosto alto dovesse continuare così io credo che il posto di Kusunur ormai l'ha preso e ha dichiarato la cosa che era appunto il difensore a cui faceva riferimento già prima e che doveva essere probabilmente il punto fermo e io credo che nel miglioramento di Jonathan Ta ci sia anche molto della vicinanza di Kappie che magari è un giocatore che ovviamente non non ha l'esperienza che può avere uno come Ta ma con la sua capacità di leggere in anticipo il gioco permette a Ta di fare meno giocate diciamo le giocate pericolose per Jonathan Ta che ormai l'hanno reso noto in tutta la Germania e non solo e questo lo sta aiutando molto la difesa di Leverkusen tra l'altro per carità non sarà questa grande difesa che comunque alla voce col subiti sono tanti e mi sembra che se uno sbaglio in Kappie non ha neanche una rete inghiolare in Bundesliga in questo momento però è migliorata tantissimo e soprattutto diciamo che dai centrali parte poi quella che è la manovra di Seovane e abbiamo visto anche con l'ultima partita contro il Dortmund che cosa possono fare questi giocatori tra l'altro se non sbaglio proprio in Kappie che lancia l'azione che poi parte per il 3-1 quindi ecco diciamo che è un giocatore molto moderno da questo punto di vista e non sarei stupito se nel giro di 2-3 anni possa arrivare a livelli molto molto alti e ci sarà anche da capire se lo farà appunto il difensore centrale o la terzina o sinistra perché di fatto da quando la coppia centrale è diventata Tata Psoba da ottobre sostanzialmente in Kappie ha sempre giocato terzina al posto di Baccar cioè Baccar è arrivato dal Paris Saint-Germain per fare il titolare però il posto gliel'ha rubato quello che era arrivato dall'Equador sostanzialmente è diventato un inamovibile così come è diventato inamovibile un altro ragazzo di cui adesso ci parla Joe che all'inizio quando noi celebravamo la campagna acquisti estiva dell'Arminia a Bielefeld dicendo c'è stato un grandissimo rafforzamento sono arrivati tanti giocatori di talento che noi conoscevamo come Hach che avevamo visto in Svite con Nuremberg Gianni Serra che era comunque l'attaccante dell'Under 21 è arrivato Vasiliadis dal padre Borden un altro grande acquisto Schöpf dallo Schalke e tanti altri di lui oggettivamente all'inizio conosceva un po' anche perché giocava in Austria invece adesso sei mesi dopo siamo qui a dire che Patrick Wimmer esterno destro si è preso l'Arminia a Bielefeld e se l'Arminia in questo momento ha una chance reale di salvarsi è soprattutto merito di questo ragazzo qui sì in effetti anche io sarei partito dal mercato perché è arrivato gli ultimi giorni poco più di 500.000 euro quindi comunque un acquisto anche assolutamente in linea dell'Arminia ma non non una cifra incredibile un 2001 quindi effettivamente preso un po' per fare probabilmente la seconda linea per essere utilizzato come riserva come alternativa effettivamente le prime due partite è stato in panchina alla terza contro l'Aintracht è entrato ha giocato gli ultimi dieci minuti e ha segnato mi ricordo che stavo guardando quella partita e non avevo ben capito subito chi fosse e pensavo fosse Prittel tra l'altro ma ha detto un golco del genere perché è un tiro da fuori e già lì effettivamente già la partenza diceva di un giocatore poi può essere sempre un caso ma diceva anche di un giocatore se vogliamo predestinato almeno in questo campionato dopo è stato oggettivamente un crescendo noi poi questo puntato dovevamo farla dopo la famosa Rabona per l'assist per Chef però al di là di quello che è stata una follia totale appunto come ha detto Ortega che però dice anche di una sua tranquillità anche di una confidenza in questo momento devo dire che gli riesce quasi tutto è diventato titolare inamovibile come caratteristiche non l'ho detto l'ho dato per scontato è un esterno è un esterno offensivo gioca su tutte e due le fasce soprattutto a destra devo dire che al momento Kramer lo sta usando principalmente a destra c'è una caratteristica come statistica che secondo me dice anche un po' delle sue caratteristiche che sono quelle comunque di un giocatore veloce di un giocatore ancora un po' da sgrezzare ma sta veramente migliorando tanto anche dal punto di vista tecnico è perfetto probabilmente in una sorta di 4-2-3-1 cioè largo largo a destra volendo anche largo a sinistra la statistica che dicevo prima è che nel momento in cui lui ha fatto 3 gol e 5 assist gli assist sempre quando sta partendo da destra quando parte da sinistra ha più ovviamente rientrando sul piede suo il destro segna di più quindi c'è questa anche possibilità di alternarlo in base a cosa per Cramer in base a cosa vuole ottenere dalla partita perché a destra soprattutto secondo me basandosi sulle difese avversarie però il numero di assist gioca a destra è notevole a 5 con quello per gli anni per Serra proprio assist non lo direi però quello è il quinto della stagione arriva come hai detto dall'Austria-Vienna la crescita devo dire che è stata abbastanza è stata quasi improvvisa l'Austria-Vienna l'aveva preso per giocare nella seconda squadra aveva comunque 18 anni e poi dopo 6 mesi l'ha messo in prima e ha giocato sostanzialmente sempre ultimo dato secondo me che può dire del giocatore cioè di quanto anche anche la capacità di inserimento sia un dato fondamentale al di là dei tre gol è il giocatore dell'Arminia che ha tirato più in porta per dire Kloss ha tirato 36 volte lui ha tirato 38 Okugawa che ha segnato 7 gol quindi ben più di lui ha tirato 22 quindi è comunque e questo probabilmente dice anche di un fatto di dover migliorare un po' come freddezza è chiaro che quando fai tutto quel campo probabilmente fai anche più fatica ma secondo me lo step successivo è quello lì cioè nel momento in cui di questi 38 gol non dico gliene entrino 10 ma gliene entrano 7 e non 3 allora stiamo parlando di un giocatore ancora più completo a 20 anni 21 quindi può decisamente arrivarci comunque direi da tenere d'occhio infatti in under 21 austriaca è anche già segnato un po' è assolutamente titolare ormai da fine 2020 peraltro la cosa che a me ha stupito tantissimo di lui è che all'inizio era proprio un giocatore confusionario cioè Kramer secondo me il merito di Kramer è stato soprattutto quello di fargli ordine in testa perché faceva un casino allucinante all'inizio invece adesso è un giocatore concreto fila dove lo vedresti bene come realtà dici sì come realtà come caratteristiche cioè posto che non ci rimane un altro anno a Bilef ad uno così cioè per quello insomma dico no tra l'altro col club che è stato il giocatore più veloce più pressato e ha vinto più duelli questo per dire cioè nel senso che comunque chiaramente lo vedrei secondo me deve andare per step proprio perché come hai detto tu allora io ho detto crescita immediata cioè veloce nell'anno però ha fatto un percorso come dicevi tu all'interno della stagione 21-22 notevole perché le caratteristiche le avevamo appunto deve essere inquadrato è stato inquadrato e secondo me ha ancora bisogno di un ulteriore step che può essere non so quale possa essere l'ultimo ma il prossimo secondo me è una squadra rimanere appunto in Bundesliga comunque in una squadra di decisamente metà classifica ma mi sbilancio e dico che comunque può essere anche una metà alta cioè non altissima ma comunque non so adesso la butto lì ma è vero che Sterni ne ha ma Friburgo ad esempio potrebbe essere dico addirittura anche la squadra ma nel senso che per caratteristiche per ambiente per allenatore potrebbe essere un bello step bella chiamata bella chiamata però però secondo me il Friburgo dovrebbe prendere un altro giocatore che neanche lui rimarrà dove sta perché gioca nel Greutherfurt e si chiama Jamie Leveling nome che è quasi più inglese che tedesco in realtà è ganese perché Leveling è tedesco ma di origini ganesi già lui è un ragazzo molto coraggioso perché è nato a Nuremberg che gioca nel Greutherfurt non è che c'è solo nato a Nuremberg c'è pure cresciuto anche a livello calcistico fino a quando aveva 16 anni e per capirci lasciare il Nuremberg per andare nel Greutherfurt non voglio farlo ma come crescere nello Schalke andare a Borussia Dortmund quando hai 16-17 anni insomma diciamo che la rivalità nella Franconia comunque è molto molto quella è un ragazzo di cui si parla da un pochino nel senso che lui comunque già nella stagione 19-20 quando il Greutherfurt di fatto giocava per metà classifica se non addirittura per salvarsi Inzweite aveva già fatto i suoi primi passi diciamo così l'anno scorso nell'anno della promozione ha giocato 24 partite e non è mai stato un titolare e in realtà poi verso la fine del campionato ha anche perso il posto vuoi anche per questioni dinamiche di mercato di rosa più piena ma soprattutto comunque era un giocatore già sempre nel giro delle nazionali e comunque qualche minutino ce l'aveva sempre in campo uno su cui insomma puntavano e anche all'inizio di quest'anno sembrava che il light motive fosse lo stesso con Stefan Leiter che o lo schierava nei minuti finali oppure non lo schierava però se andiamo a vedere il ruolino leveling le ha giocate tutte cioè 21 presenti in 21 partite è vero che pochi da titolare però con la titolare stanno arrivando di fatto negli ultimi tre mesi perché all'inizio come detto era soltanto un un rincalzo in pratica mi sembra con l'Ipsia sia arrivata la prima da titolare dopo che giocava aveva giocato sempre pochi minuti entrando dalla panchina però un giocatore molto interessante già quattro gol aveva anche segnato alla prima l'esordio di Montesega con lo Stoccarda il problema era il 5 a 1 e quelle 5 erano gli altri quindi diciamo che un po' se lo sono dimenticati il suo il suo il suo gol è un ragazzo che ovviamente Antonio Di Salvo ha fatto entrare subito nel giro dell'Under 21 tedesca era già nel giro dell'Under 20 anche l'Under 19 ma la curiosità è che lui è ganese lui è ganese di origini come detto e nel 2020 la Ghana l'aveva convocato solo che lui sostanzialmente con il Ghana non ci ha mai giocato quindi è ancora convocabile per la Germania e addirittura a cos'era a settembre le convocazioni di settembre scorso lui ha snobbato la convocazione del Ghana per giocare con la Germania Under 21 quindi diciamo che il suo percorso per adesso sembra abbastanza chiaro poi vedremo se tornerà sui passi ora non voglio dire che arriverà a giocare in nazionale perché forse mi sembra già un pochino un pochino eccessivo però sicuramente questo ragazzo è uno di quelli da tenere d'occhio perché diciamo che di strada ne può fare gioca o sull'esterno destro d'attacco oppure da seconda punta a me piace più da seconda punta sinceramente è molto atletico ma ha anche un bel fisico che è difficile da battere spalla a spalla ma è uno anche che ha il dribbling nel breve oltre che sul lungo non è magari un giocatore tatticamente ancora molto disciplinato però ci sta insomma che è comunque un giocatore che deve avere libertà diciamo così per esprimersi secondo me al suo al suo meglio ed è un giocatore che ha scadenza 2024 con Grotterford ma che si può portare via tranquillamente low cost perché comunque diciamo che non è uno che l'anno prossimo va in Zweite in Bundesliga questo come Wimmer non è uno che l'anno prossimo va in Zweite perché si meriterebbe di stare in Bundes e poi chissà chissà Sky is the limit e se devo dire una squadra in cui lo vedrei bene può sembrare strano ma c'è questo fit con il Borussia Mönchengladbach che a me piace molto cioè lo vedo molto bene come uno dei due sottopunta con anche perché ce ne sarebbe un altro no sbagliato di sottopunta sì però in realtà non c'entra niente vabbè fate come se non avessi detto niente rimaniamo sugli esterni offensivi barra attaccanti Gian perché a Zinzheim dove gioca l'Offenheim c'è un ragazzo che direi finalmente visto che da tanto tempo comunque si aspettava quest'anno sta vivendo non dico la stagione della carriera perché è ancora lunghissima la sua carriera però la stagione in cui si sta affermando possiamo dirlo questo sì sì è Giorginio Rutter che è un giocatore grezzo ma grezzo a livelli clamorosi cioè secondo me se uno guarda due partite di Rutter la prima partita pensa questo è il nuovo Mbappé la seconda partita pensa questo non ha mai giocato a calcio in vita sua perché è un giocatore meraviglioso meraviglioso nel bene e nel male ed è incredibile perché sa fare delle cose benissimo ma a livelli molto molto alti poi però si perde in alcune cose imbarazzanti tra cui per esempio un aspetto che diciamo ha una certa importanza nel calcio che sono i passaggi basta pensare che tra gli attaccanti è nel sedicesimo percentile per il percentuale dei passaggi riusciti cioè vuol dire che praticamente sbaglia un passaggio su due perché c'è una media di 65% dei passaggi riusciti che è una roba un passaggio su tre scusate una roba comunque molto molto rivedibile però è un giocatore di gran talento è stata una grande scommessa dell'Hoffenheim perché dopo un percorso giovanile che l'aveva visto principalmente in Bretagna lo prese il Rennes e fece parte di quella storica formazione giovanile del Rennes da cui poi sono usciti i vari Camavinga che insomma ha avuto un altro tipo di carriera finora Truffar che è un bellissimo terzino molto molto promettente e Soppi che vediamo in Italia con l'Udinese è un giocatore che come ho detto Gio finalmente si sta fermando perché comunque il percorso che ha fatto nella stagione 2021 prima in Francia e poi in Mondesliga non era stato particolarmente convincente seppure si è presentato il 21 febbraio in Mondesliga dopo tre minuti segnando il gol del 4-0 contro il Verde però poi da lì diciamo che le apparizioni sono state un po' fatte di alti e bassi mi dovrebbe dire più bassi che alti invece quest'anno è arrivato che comunque su 21 presenze che sono molte seppure soltanto 6 dal primo minuto ha già realizzato 5 gol e diciamo il numero degli assist è variabile c'è chi ne ha 5 e c'è chi ne ha 2 perché sostanzialmente tre assist sono passaggi uno a Kramaric lo ricordo proprio fa questo passaggio Kramaric si gira fa un gol della Madonna quindi non so se possiamo considerarlo assist o meno però è un giocatore dotato di una velocità pazzesca molto agile e ha un dribbling nello stretto che funziona molto bene e incredibilmente però per quello che potrebbe essere il dato che ho detto prima ai passaggi quando si trova in posizione offensiva riesce spesso a liberare l'attaccante infatti gira a 0.5 K pass per partita e comunque è un dato molto molto interessante considerando che c'ha una media di 46 minuti giocati a partita e una cosa che stupisce sicuramente del giocatore è la straordinaria qualità le sue straordinarie qualità fisiche perché oltre a accelerazione e agilità è comunque molto molto forte fisicamente c'ha uno stacco notevole ma soprattutto ed è una cosa che secondo me è fondamentale poi nel calcio moderno è il suo essere ambidestro perché seppur seppur mancino tre dei cinque gol che ha fatto fino adesso in questa bundes l'ha fatto di destra tra cui uno bellissimo se non vado errato contro il Greuther a giro fuori fuori area probabilmente la sua miglior partita fin qua è un giocatore che si inserisce molto bene però nonostante tutto ciò appunto alcune volte dà questa sensazione di non essere ancora a quel livello si trova nel posto giusto perché diciamo a Offenheim li sanno sviluppare gli attaccanti mi vorrebbe a dire e quindi ci sono tante possibilità che possa arrivare ad un livello molto alto però in questo caso il best case scenario e il worst case scenario sono molto molto lontani l'uno dall'altro perché se riesce a sistemare quelle pecche che come ho detto sono lacune molto profonde può diventare un giocatore di ottimo ottimo livello se invece non non dovesse riuscirci è chiaro che per un livello superiore diventa diventa un problema grande però io sono molto fiducioso perché quello che ha fatto vedere di recente anche il modo in cui è entrata una partita contro il Borussia Dortmund fa ben sperare e secondo me potrebbe essere un altro prodotto della Francia come l'avevo detto prima in francese di cui sentiremo parlare negli anni a venire perché comunque non ha neanche vent'anni allora qua stiamo parlando di giocatori offensivi il mio giocatore uno di quelli che ho scelto è Ugo Novoa che spagnolo galiziano 2003 praticamente credo che sia a mia memoria uno delle migliori annate 2003 del 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 deportivo che purtroppo la prima squadra langue nelle serie inferiori ma invece il settore giovanile produce sempre giocatori di grande livello e qualunque giocatore della Galizia che spicca va a finire lì e da lì l'ha pescato il Rasenball lui è un 2003 è un giocatore offensivo può fare o la seconda punta o l'esterno o diciamo che soprattutto con tedesco ha fatto perché l'ha fatto esordire March contro il Grotterfjord ha segnato ed è diventato il più giovane goleador della storia del della Rasenball Lipsia in Bundesliga può fare nel 3-4-1-2 può fare uno dei due uno dei due trequartisti è un giocatore che adesso sta giocando soprattutto anzi quasi esclusivamente spezzoni di partita anche perché quei due che è lì davanti che diciamo che è un po' schiodarli anche perché uno con Q che non so se è il più forte giocatore al momento in quel ruolo in Bundesliga ma ci manca poco è un giocatore estremamente è un giocatore tecnico un giocatore molto veloce che è duttile ovviamente è un giocatore offensivo può fare soprattutto addirittura Marsh che è poi uno di quelli che aveva allenatore che poi l'ha voluto portare con il insieme a Nagers ma l'ha voluto portare nella nella rosa della prima squadra ricordiamo che già Nagers ma l'aveva portato nella final eight di nella fase finale del della Champions League l'aveva portato non l'aveva mai fatto giocare però l'aveva aggregato diciamo che può fare più ruoli è un giocatore secondo me che ha bisogno di spazio perché purtroppo è chiuso soprattutto perché appunto il tedesco gli sta dando gli ha dato fiducia perché a differenza del suo di un altro giocatore Darius e Darius scusatemi Bosch Darius era il papà che è il fratello che è stato mandato in è stato non è stato mandato via è stato mandato in prestito invece lui è rimasto ed è nelle rotazioni secondo me è un giocatore che avrebbe bisogno di una squadra anche di secondo me di media di medio livello dove giocare perché secondo me adesso il grosso problema è mettere minuti è un tra l'altro è un spagnolo molto atipico immaginatevi anche Ligno al contrario sostanzialmente molto poco appariscente molto diciamo molto introverso in spagnolo c'è una bellissima proverbio che dice quando si parla con un Gallego non si sa mai se sale o scende per dirvi quanto è iperscrutabile io ho visto alcune foto anche quando c'è molto davvero sembra è anche molto maturo lui tra l'altro è andato lì a Lipsia dopo gli siano ematti diverse offerte lui ha scelto Lipsia perché secondo lui era il miglior passo per la sua carriera secondo me per le sue caratteristiche è un giocatore che avrebbe bisogno di trovare una squadra che gioca un calcio offensivo e che gli dia possibilità di giocare con continuità perché davvero il rischio è che si che si perda e secondo me però non è la politica di Rasenbar quello di dare giocatori in prestito ad altre squadre di Bundesliga a meno che ce ne sia necessità io credo che sia un giocatore che fra qualche anno già ha qualche record l'ha battuto secondo me se non si perde e non ha problemi fisici potrebbe essere un giocatore davvero che il suo lo può dire una massima divisione che poi potrebbe essere la Bundesliga lo speriamo però davvero è un giocatore secondo me a differenza di Rutter è un giocatore molto meno estremo nel senso che è un giocatore che sa fare bene alcune cose alcune sa fare meno bene ma è molto difficile prendere una giornata in cui come diceva Gianci si fa la domanda se abbia mai giocato a pallone davvero è un giocatore secondo me che ha grandi prospettive il problema adesso in questo momento è trovare spazio e in questa situazione non lo vedo ultimamente davvero sta giocando molto poco e sta sempre giocando sostituendo uno dei due giocatori dietro la punta anche se secondo me lui potrebbe fare anche il giocatore offensivo certo non gli si potrebbe mai chiedere di fare tutta fascia ma è un giocatore davvero che sa poi siccome tecnicamente è davvero un giocatore che su cui si potrebbe scommettere non dico addirittura squadre estere ma secondo me qualcuno che gli dà spazio secondo me anche in Spagna potrebbero potrebbe fargli fare un salto che poi potrebbe essere anche molto funzionale al progetto io invece io invece te ne dico un altro che gioca dietro la punta allora io di questo ragazzo sono super fan dal primo giorno in cui l'ho visto con la maglia dell'Eintracht Francoforte e parlo di Jesper Lindström che è un danese trequartista classe duemiladue scusate duemila non so perché abbiamo uscito duemiladue è un duemila ha 21 anni anzi li compie in realtà è nato il 29 febbraio quindi io non so bene quando li compie però ho questa particolarità di talento e di estero è nato il 29 febbraio del duemila curiosità è nato in Danimarca è una storia personale molto particolare perché lui si è messo in mostra a livello calcisi con il Brunby l'anno scorso ha vinto il campionato da straprotagonista con il Brunby con 10 gol e 10 assist numeri da doppia doppia il Brunby non vinceva il campionato da 16 anni quindi insomma già per capire ha fatto un discreto miracolo l'allenatore che l'ha lanciato si chiama Fredriksen che l'aveva già avuto anche in Ander 21 dove l'aveva convocato e poi quando si è trovato per le mani al Brunby lo ha reso protagonista della squadra però lui a Brunby com'è che ci è arrivato lui non viveva lì non doveva giocare nel Brunby nel Brunby ci è entrato perché i suoi genitori hanno divorziato lui a 6 anni con la madre si è trasferito a Brunby e è entrato poi nell'academy del club si chiamano sliding doors sostanzialmente per lui è arrivato all'Aintracht e già negli amichevoli di quest'estate mi faceva impazzire perché era il classico giocatore con la giocata cioè uno di quelli che toccava la palla e faceva succedere le cose e si vedeva si vedeva che questo ragazzo aveva qualcosa in più degli altri si vedeva da subito negli amichevoli poi Bundesliga è un'altra cosa però ovviamente quindi magari Tacco Veronica giocata tecnica quelle cose lì insomma ci aspetti un attimo non è che li fai con questa dimestichezza e questa grande facilità con i ritmi della Bundes lui ci è dovuto ambientare poi nel mese di dicembre ha cominciato ad avere più continuità e quando è iniziato ad avere continuità di rendimento lui si è acceso anche l'Aintracht Francoforte perché lui ha fatto il primo gol con il Friburgo poi è segnato contro il Leverkusen il Borussia Mönchengladbach il Mainz 4 gol che ha aggiunto anche 3 assist e da lì è sempre stato titolare e non è mai uscito anzi no con Leverkusen è retratato dalla panchina se non sbaglio comunque è sempre stato fisso nelle rotazioni di Oliver Glasner e ha ricominciato a fare quelli giocati tecniche che mi fanno impazzire lui ha un controllo del pallone una padronanza del pallone che hanno in ora non voglio dire voglio dire 10 però insomma in Europa sono veramente pochi pochi pochissimi quelli che hanno una padronanza del pallone del genere ha un problema che sottoporta non è proprio freddissimo ci sta lavorando per sua stessa ammissione però insomma diciamo che dovrebbe essere un pochino più lucido quando si tratta di fase realizzativa però è un giocatore fantastico cioè è un giocatore veramente che fa divertire lo guardi ti cioè proprio sai che potrà sempre in qualunque momento tirare fuori la giocata che sia sulla linea di fondo con l'uomo alle spalle che sia a fronte con le spalle con i piedi sulla linea laterale che sia centrocampo in una fase di transizione perché anche questo c'è veramente nelle corde il dribbling il creare superiorità numerica come peculiarità del suo gioco e praticamente è un giocatore perfetto per il 2022 non ha un gran fisico è un po' leggerino perché lo sposti con poco però devi prenderlo per spostarlo è questo il discorso solitamente prima li salta ed è un giocatore veramente veramente forte che è all'inizio di un percorso soprattutto è nella squadra giusta prega Francoforte quelli così li valorizzano e soprattutto ha l'allenatore giusto perché Oliver Glasner lo ha riconosciuto gli ha riconosciuto il suo talento ha capito che giocatore è e penso che non dico che sia tutta in discesa adesso però il grosso è fatto peraltro particolare che lui nonostante fosse diventato campione di Danimar con il Brandby non ha fatto parte della spedizione della Danimarca a Euro 2020 aveva già giocato in nazionale a novembre poi è stato riconvocato soltanto dopo e adesso ha solo tre presenze ha giocato molto molto di più con l'Under 21 io non lo conoscevo prima che arrivasse al line track dico la verità è stata una una scoperta pazzesca e spero che anche altri lo scoprano lo scoprano molto presto anche qua volevo farla molto prima siamo arrivati tardi era già da seguire a fine 2021 ma l'avevano già detto se ci seguivate l'avevano già detto Joe anche il tuo secondo giocatore è uno di quelli che parlarne in questo weekend ci possono dire grazie vero effettivamente l'avevano preparato già da tempo e poi in realtà lui forse a differenza di praticamente tutti quelli che abbiamo detto già quando è arrivato aveva una certa fama ecco cioè quando io me lo ricordo perché giocava nel Mechelen in Belgio lui è belga fine 2002 4 ottobre 2002 quindi al momento ha 19 anni ed era sostanzialmente considerato da tutti tutti diciamo scout o quelli che fanno che guardano diciamo il calcio giovanile o comunque i ragazzi dal 2002 in su o in giù lo consideravano uno dei centrocampisti più promettenti del 2002 diciamo fascia 2002 2003 non solo la curiosità è che Rangnick quindi cioè a noi basterebbe questo quando era un passo dal Milan uno dei nomi che aveva fatto come fondamentale per fare il passaggio di ringiovanire la squadra comunque puntare sui giovani era proprio quello di Aster Brands e poi vabbè non si è fatto il Wolfsburg ha messo giù una discreta cifra per un giocatore di 18 anni quando l'ha preso comunque superiore ai 5 milioni di euro quindi una bella cifra lui l'ultima stagione quindi la la 20-21 aveva già esordito l'anno prima ma la 20-21 ha fatto una grande stagione è un centrocampista moderno cioè comunque un buon fisico è bello compatto una gran tecnica perché questo se notate il Wolfsburg ha chi batte i calci da fermo nel Wolfsburg sono o Maximilian Hardor e sappiamo tutti il tipo di mancino che ha oppure con il destro lui e questo vuol dire tanto anche dal punto di vista delle responsabilità che un giocatore di 19 anni 18 l'anno scorso si prende e su questo devo dire che la mentalità mi ha sempre colpito di Brands cioè anche quando per praticamente tutta la stagione il Wolfsburg era quello che era e quindi era assolutamente in difficoltà lui comunque spiccava cioè le volte in cui giocava e ha cominciato con Kofeld l'ha fatto giocare sostanzialmente sempre prima da centrale di centrocampo e poi questa secondo me è un'altra caratteristica che per il futuro sarà da monitorare come più avanzato ieri ad esempio 3-4-2 1 ma non è la prima volta e lui era tra i due insieme a Kruse era dei due alle spalle di Wind ieri o comunque di Wegors nelle partite precedenti perché dico che questa cosa qua è da tenere sott'occhio perché secondo me essendo un centrocampista completo come dicevo prima il ruolo può essere abbastanza vario e può variare da partita a partita perché in effetti ieri è poi tornato a fare il centrale a un certo punto non mi ricordo quando è entrato chi comunque è tornato a fare il centrale di fianco a Arnold questo all'interno della stessa partita uno di 19 anni ti fa senza problemi e con un ottimo rendimento tutte e due le cose quando fa il trequartista cioè in generale segna spesso adesso ieri sono i primi due gol che domenica ha fatto i primi due gol in Bundesliga però anche precedentemente nel Mekenen quando ha giocato trequartista segna ogni due partite segna questo secondo me per quanto non siano tantissime però è un dato significativo è assolutamente da tenere da tenere sotto sott'occhio ovviamente Under 21 nazionale fisso e secondo me per chiudere sul come lo vedo dipende molto dalle ambizioni del Wolfsburg nel senso che ritengo che possa essere utile per lui continuare lì però continuare lì se il Wolfsburg ovviamente non fa sale ovviamente di livello rispetto a quest'anno penso che almeno un anno ancora possa essere utilissimo rimanere dov'è crescere lì dove già conosce non cambiare subito perché poi è destinato a squadre top secondo me è destinato a squadre decisamente di alto livello sì peraltro volevo aggiungere due cose ha fatto le prime sette in panchina cioè le prime due direttore in tribuna le prime sette di Bundesliga con Van Bommel le ha fatte in panchina tutte è entrato mezz'ora con l'Union Berlin nonostante si fosse fatto male schlager non lo faceva giocare mai mai diciamo che si è meritato l'esonero Van Bommel no poi l'altra cosa è che quando l'ho visto dal vivo contro il Lipsi contro il scusami il Lille in Champions League era l'unico del Wolfsburg che cercava di fare qualcosa che provava la giocata cercava di saltare l'uomo sempre fisso così in una situazione del genere classe 2002 questo ragazzi è veramente da da seguire tra l'altro c'è stato anche un belga di recente qualche anno fa al Wolfsburg che gravitava in quelle parti del campo che ti assumi la responsabilità di quello no vabbè hai riportato un fatto storico certo giusto hai riportato un fatto storico va bene ci può stare va bene e su questo e su questo direi che possiamo anche chiudere questa puntata che è stata bellissima ragazzi se non vi siete segnati i nomi ovviamente mi raccomando fatelo perché sono ragazzi veramente di grandissima prospettiva e sono giocatori che quest'anno vanno seguiti con grande attenzione perché possono veramente spaccare ci auguriamo che lo facciano anche perché insomma abbiamo fatto talmente tanti props in questa puntata che se non lo fanno ci facciamo pure a noi la figuraggia ma va bene così Roberto Brambilla ciao Rob grazie mille ciao Gio ciao a tutti Gianmarco Galliangeli ciao Gian ciao Gio un saluto a tutti Giorgio Tosatto ciao Gio ciao ciao a tutti Bundes Italia ci trovate su Facebook su Instagram su Spotify su Apple Podcast mi raccomando seguitici ovunque ci vediamo in live su Twitch alla 19 e sul podcast in ogni momento ogni ora del giorno ci sono anche le puntate vecchie che potete recuperare se volete prenderci un po' per il culo con tutti gli strafalcioni che abbiamo detto insomma ci sarebbe veramente tanto materiale per umiliarci quindi cerchiamo di non umiliarci da soli ma se volete farlo voi ci cospargiamo il capo di cenere e io lo accettiamo va bene chiudo qua Icabefertig buona serata a tutti ciao grazie a tutti Grazie a tutti